ciao papi ehi oi saluta christian fai un bel saluto oi saluta ehi maschione oi squaletto oi piccoletto fai un bel saluto qui oi oi sto cadendo fai un bel saluto guarda qua guarda qui ciao dai fai un bel tuffo guarda che bel mare oggi è quasi cristallino insomma è abbastanza trasparente l'acqua oggi si sta molto molto bene vai christian fai un bel tuffo vai cristian dai che dopo andiamo ti faccio vedere dopo come fanno i pescatori va bene che stanno pescando i signori anche tu vuoi fare il pescatore dove fare il muratore il pescatore il pittore il cuoco ma quante cose vuoi fare te questo posto qui è carino perché c'è è molto basso e lui ultimamente ha sempre paura dell'acqua profonda cioè due anni fa magari potevamo comunque portare in vicina lui un po spaventato però faceva comunque provava a ruotare invece adesso un po più probabilmente perché la consapevolezza del pericolo e quindi non gli piace stare nelle acque profonde neanche a metà metà petto e insieme a me poi è strano che a casa fa storie con fa storie con con la c'è l'acqua un po freddina e qui per me l'acqua è gelata invece qui si butta come se niente fosse è tremendo questo principe vero amore ehi dai fai un bel tu poi facci vedere come fai il tuffo così come il pesciolino vai non ti va dai fai fai tu lascia quello lascia quello dai fammi vedere come fai così di testa fai un lancio vai 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 fai il lancio vai vai uno due tre vai fai lancio dai mamma mia eccolo